Ben trovati da Nico Schiodetto, tendenza per l'ultimo weekend di questo mese di settembre che ci condurrà poi domenica al primo di ottobre. La tendenza vede un campo di alta pressione interessare nella seconda parte della prossima settimana l'Italia con più stabilità, un po' di più sole anche a sud e soprattutto le temperature nuovamente in aumento. Ma in concomitanza di quelle weekend potrebbero subentrare di nuovo al centro a nord correnti umide oceaniche da ovest con il ritorno di qualche pioggia sulle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, meno coinvolto il sud. Rimanete aggiornati perché si fa sì serio, si entra nell'autunno e alte perturbazioni nei prossimi giorni interesseranno il paese. Dettagli maggiori sull'app di Trabi Meteo oppure sul sito web.